Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, dove in questi ultimi giorni si registra un nuovo aumento dei casi. Anche l'ospedale Maresca potrebbe diventare un nuovo focolaio. E sempre in tema di emergenza vesuviana un nuovo carico di vaccini è arrivato ieri all'aeroporto di Capodichino ed è stato poi scortato dalla Guardia di Finanza all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Poi la cronaca, i militari delle fiamme gialle hanno scoperto due donne di Torre Annunziata che percepivano un sussidio come familiari di vittime della Camorra. In realtà erano la moglie e la sucera di un boss. E ieri prima messa solenne di Monsignor Battaglia, l'omelia dedicata alle vittime della crisi economica. In chiusura le celebrazioni per la festa di San Biagio. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. A Torre del Greco sono state registrate dal giorno 1 febbraio 60 guarigioni e 108 nuovi positivi al Covid-19. Sono 4 i soggetti passati dall'isolamento domiciliare al ricovero ospedaliero, mentre uno solo è stato dimesso ed è stato sottoposto all'isolamento domiciliare. Certificato un ulteriore decesso di un cittadino di classe 1961. Muta dunque il bilancio dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco. Sono 465 i cittadini posti in isolamento domiciliare, 25 ricoverati, 2760 guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 89 deceduti. Sono 169 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Torre annunziata dal giorno 1 febbraio. Al contempo si registrano anche 60 cittadini guariti. Dichiarati inoltre due decessi. Sale 681 il numero dei cittadini di Torre annunziata che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 673 i soggetti posti in isolamento domiciliare, 8 ricoverati, 1635 guariti e 34 deceduti. Sono 126 i cittadini di Castellammare di Stabio risultati positivi al Covid-19 dal giorno 1 febbraio. I guariti per lo stesso periodo sono 42. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città. Sono 3445 i contagiati totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 48 i cittadini deceduti. Ieri mattina sono arrivate all'aeroporto di Capodichino nuove scorte di vaccini per il Covid-19. La consegna è stata affidata al Corriere DHL che, con un suo velivolo, ha trasportato le dosi fino all'aeroporto napoletano per poi continuare con i tradizionali furgoni. Anche questa volta la Guardia di Finanza ha ricevuto l'incarico di scortare il prezioso carico fino alle singole strutture. Ieri i vaccini appena atterrati sono stati consegnati all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata di beni del valore di oltre 166.000 euro nei confronti di due donne, moglie e suocera di un affiliato a Clangionta, sottoposte alle indagini per reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per aver percepito per 15 anni il vitalizio previsto per i familiari delle vittime della criminalità organizzata. La vicenda trae origine dalla strage di Sant'Alessandro. Allorché il 26 agosto 1984 un gruppo di fuoco della criminalità organizzata, a bordo di un autobus turistico, davanti al circolo dei pescatori a Torre Annunziata, aprì il fuoco uccidendo 8 persone e cagionando il ferimento di altre 7 persone. 18 anni dopo, nel febbraio 2002, la moglie e la figlia di una delle vittime della strage avevano ottenuto dal Ministero dell'Interno un assegno vitalizio in qualità di familiari delle vittime della camorra. Tale beneficio economico era però incompatibile con il fatto che la figlia della vittima dell'agguato, nel 1999, si era sposata con un esponente del Clangionta, detenuto dal 2017, nel carcere di Secondigliano, nonché condannato con sentenza definitiva in data nel 2018. L'intervenuto matrimonio era stato taggiunto dalla donna per poter continuare a beneficiare del vitalizio. Allorché nel 2009 la Prefettura aveva richiesto reiteratamente alle due donne di aggiornare le informazioni sulla loro situazione familiare, al fine di poter verificare la loro estranetà ad ambienti criminali, requisito previsto dalla legge per poter beneficiare del vitalizio, le due beneficiare avevano omesso di rispondere ed avevano simulato una separazione consensuale tra i conogi omologati nel 2010 dal Tribunale di Torre Annunziata. Le indagini espletate dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno consentito di accertare il carattere fittizio della separazione tra i conogi, essendosi acclarato che, successivamente alla separazione nel 2017, la coppia aveva avuto un'altra figlia e che la moglie, talvolta insieme alla suogera, aveva continuato ad effettuare i colloqui con il marito nel carcere di Secondigliano, ove questi è tuttora distretto. L'importo del vitalizio indebitamente percepito dalle due donne, sino alla data odierna, è pari a 166 mila euro. Mi sento di entrare in questa Chiesa chiedendo permesso, con la stessa delicatezza con cui il Signore sta accompagnando, il mio desiderio di lasciarmi nuovamente toccare dall'incontro con Lui. Attendo di incontrarlo nei vostri volti, nelle storie che incrocerò. Domenico Battaglia, il nuovo arcivescovo di Napoli. Ieri la prima messa solenne nel Duomo, alla presenza delle istituzioni cittadine. 58 anni, originario di Satriano, in provincia di Catanzaro. E' stato ordinato viscovo nel 2016, nel Beneventano. La sua prima omiglia ha reso chiaro lo spirito con cui affronterà questo nuovo percorso. Il suo impegno sarà per i dimenticati, per chi ha perso tutto a causa della pandemia, della crisi economica e dei problemi endemici nel nostro territorio, come la criminalità organizzata. L'invito che ha fatto è stato proprio quello di non professare l'amore per gli altri solo in Chiesa, noscere fuori dal tempio, guardare il mondo e dedicare la propria fede in un impegno concreto e reale. Solo partendo da chi è rimasto indietro, potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. E allora, coraggio, coraggio e buon cammino, buon viaggio a ciascuno di noi, a tutti noi. Amen. I torresi hanno rinnovato la loro devozione a San Biagio anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Per evitare assembramenti nella piccola cappella dedicata, la Statua del Santo è stata eccezionalmente spostata nella Chiesa di Santa Maria del Principio. Don Luigi Maiulo, parroco della Chiesa di Santa Maria del Principio, che ospita per quest'anno eccezionalmente le celebrazioni per la festività di San Biagio. Com'è l'affluenza dei fedeli in questo giorno molto particolare? Dall'alba di stamattina, dalle sei e mezza di stamattina, c'è stata un'affluenza di tante persone che per devozione sono giunti qui nella parrocchia di Santa Maria del Principio per venerare l'immagine di San Biagio, l'immagine della Chiesa di Via Calastro, che la famiglia Palomba Sorrentino ha ritenuto quest'anno di poterla portare qui nella parrocchia per la venerazione. C'è stata una bella affluenza, c'è questa bella tradizione di dare il baduffolo dell'olio benedetto più dei taralli che hanno dato. Ringraziamo il Signore perché anche in questo momento particolare che stiamo vivendo dell'infezione, della pandemia, dove c'è un numero ristretto in chiesa, ma fuori oggi è una giornata solare, fuori c'è stata tanta gente per la partecipazione al sacramento dell'Eucaristia e molti anche per la celebrazione al sacramento della confessione. Ecco, molte persone che arrivano non solo dalla parrocchia di San Biagio, i fedeli della zona, ma anche quelli che frequentano abitualmente la vostra parrocchia, quindi un ampliamento del numero di fedeli che possono così attingere alla benedizione del Santo. Ma direi che oltre ai tradizionali persone che vengono ogni anno, ma vedo anche persone da Ercolano, da Portici, sono venute stamattina, proprio perché ci tengono per questa devozione e soprattutto per la chiesetta di Via Calastro. E allora siamo contenti di questo. E dove c'è l'accoglienza, dove c'è l'amore e la preghiera, c'è tutto. In un giorno come questo, dove bisogna comunque essere attenti al distanziamento, ai protocolli anti-covid, come si stanno comportando le persone che arrivano qui? C'è un bel gruppo di volontari della parrocchia che è vigilante su questo e sta andando tutto bene. Siamo con uno dei volontari della chiesa di Santa Maria del Principio. Come si sta svolgendo questa giornata e soprattutto qual è il rapporto che hanno i fedeli col Santo? Il rapporto è stato sempre, diciamo, a partire dai nonni, perché San Piaggio, insomma, è sempre nominato per i mali di gola. Poi in bambini pure, che una volta io che ho frequentato la scuola elementare, ci mettevamo in fila due a due, andavamo a parte il fatto che noi bambini eravamo azzatti più dai taralli che dall'olio. Però, diciamo, per i mali di gola è molto importante. Poi per la gola, anche se non è proprio l'argomento adatto, anche per, insomma, da come parliamo, che diciamo sempre molte sciocchezze, dovremmo metterlo più per quello che è un male, diciamo, esterno per un male interno. Forse c'è sempre un po' di folclore, però è stato sempre un santo amare, poi un mastire, la cappellina bella piccola, una zona amare, sempre attratto, sempre. Poi a me personalmente mi diceva mia madre che a mia zia, da piccola, fece un mitagolo, perché, non so, i bambini all'epoca mangiavano tutto e di più, rimase con la gola un po'. E con l'olio di San Biagio, quindi, anche qua, con quell'olio che non è una cosa santa, ha fatto molti miracoli. Un augurio, magari, che nel prossimo anno si ritorni alla sua sedia originale, che purtroppo quest'anno non può ospitare questa celebrazione. Certo, la sua casa è sempre quella più bella, però, sinceramente, l'importante è che fa la grazia a noi che diventiamo più buoni, più responsabili. Questo deve essere l'augurio più grande, affinché noi vediamo in San Biagio un esempio da seguire, un modello da imitare ed essere più buoni, altrimenti, poi, non serve a niente. A prendere solo l'olio, i taralli, il pane, bisogna farlo con fede. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.